C'è una disinformazione totale contro le vaccinazioni. Ricordo che solo di morbillo a Londra, cioè in Inghilterra, lo scorso anno sono morti 270 bambini per un'epidemia di morbillo molto grave. Noi oggi possiamo prevenire... Sono morti 270 bambini. Sono morti 270 bambini. Di morbillo si muore, cioè si muore in Europa, c'è stata una crisi, un'epidemia di morbillo a Londra lo scorso anno, sono morti più di 200 bambini. Si muore in Italia di morbillo. Un'epidemia di morbillo a Londra lo scorso anno, sono morti più di 200 bambini. Siamo nel tempo delle fake news, delle false notizie, e una cosa che viene ripetuta viralmente sembra diventare vera. Ecco, questo è molto importante perché noi stiamo perdendo i punti di riferimento di qual è la verità.